E' denominato i musicanti di Brema e trae spunto dall'omonima fiaba dei fratelli Grimm, in cui quattro animali di specie provenienza differenti, accomunati da esperienze di vita difficili, cercano il riscatto dalle ingiustizie subite, scoprendo attraverso la musica il valore della coesione, dell'altruismo, dell'importanza di non arrendersi di fronte alle avversità, guardando al lavoro di squadra come un imprescindibile punto di forza. E quella scritta a Squinsano è proprio una storia di riscatto. Un bene confiscato alla mafia nel 2013 è diventato un centro socioeducativo diurno per minori. In queste ore ha la presenza delle istituzioni e delle autorità civili e religiose l'atteso taglio del nastro. Una bella storia di riscatto perché questo immobile, prima nelle mani della criminalità organizzata, oggi diventa un centro socioeducativo per minori svantaggiati che impareranno, tra le altre cose, dell'educazione musicale. Quindi possiamo dire che da questi strumenti a breve usciranno note che sapranno di speranza e di legalità. Sarà sede di attività laboratoriali, a sfondo musicale e attività ludico-ricreative, volte al sostegno scolastico e dal recupero di giovani con problematiche sociali. La cosa che si contraddistingue questa sera è l'eccezionalità della visione nel tempo di un progetto del genere perché non è sempre, diciamo, così scontato. A volte sono state utilizzate con grandi usi, importanti usi, ma qui la finalizzazione è molto più di ampio respiro, lascia un segno differente. Credo che la comunità tutta, ma non è solo la comunità di Squinsano, che la comunità salentina possa prendere un esempio importante oggi. Alta l'attenzione su un tema particolarmente delicato come quello della legalità, in un territorio che è fortemente desideroso di riscatto, un'idea lungimirante per il presidente del Tribunale di Brindisi, Vincenzo Scardia. Un bene confiscato dalla mafia ritorna alla collettività e ne viene fatto un riutilizzo sociale davvero lungimirante. Il mio applauso personale all'amministrazione per questa scelta che si rivelerà, sono sicuro, vincente. Il progetto proposto dalla cooperativa sociale Lacio Drom e presentato dal Comune è stato ammesso al finanziamento della Regione Puglia con 560 mila euro. Il bene confiscato ha così avuto nuova vita. La valenza non solo del riscatto sociale, ma anche dell'inclusione sociale, perché questo percorso va a contrastare quelle che possono essere le devianze, le occasioni di devianza, ma soprattutto crea occasione di inclusione sociale per persone fragili.